Quanti anni hai? 30, il prossimo 30 aprile. 34. Come si chiama la tua impresa? Parise Impianti SRL. FF Engineering. Da quanti anni è nata? È nata nel 1947 con me la terza generazione. 4. La decisione più importante che hai preso? Di entrare in società con mio padre. Fare impresa con mio marito. E quella più difficile? Di entrare in società con mio padre. Fare impresa con mio marito. Il più grosso errore che hai commesso come imprenditore? Errori madornali nessuno. Se mai qualche incertezza con i dipendenti. Grossi per fortuna ancora no. Poi si sbaglia un po' ogni giorno e si impara dai propri errori e si migliora. Due cose che decidi solo tu in azienda? Le assunzioni e la partecipazione alle gare d'appalto. L'immagine visuale e la gestione dei clienti. Una cosa che lasci sempre decidere agli altri? Le decisioni tecniche di cantiere. Un po' difficile per carattere. Generalmente scelte molto tecniche le lascio a mio marito. Indica una persona che se non c'era non saresti partito. Tre. Mio padre, mio marito e un amico di famiglia carissimo. Me stessa, Fabrizio e anche la mia famiglia. E una persona che se non c'era saresti partito meglio. Mio padre, paradossalmente. Forse io stessa. Metti in ordine di importanza queste tre affermazioni. Sono partito bene perché avevo l'appoggio delle banche. Sono partito bene perché mi sono appoggiato a persone competenti. Sono partito bene perché mi ero preparato e ci ho dato dentro. Perché ci ho dato dentro persone competenti, appoggio delle banche. Perché ci ho dato dentro l'appoggio di persone competenti e in ultimo le banche. Da 1 a 10, quanto sei soddisfatto della tua impresa? 9. Mi piace quello che faccio, 11. Soddisfatta, 9. Da 1 a 10, quanto la tua impresa assomiglia a quella che immaginavi prima di cominciare? 8. 8. Da 1 a 10, quanto ciò che fai assomiglia a quello che volevi fare da ragazzo? 0. Un 7. Quale suggerimento daresti a un giovane che vuole intraprendere la tua stessa strada? Pensaci 10 volte e poi rinuncia. Non ne vale la pena. Buttati, ma prima preparati bene e completa la tua formazione. Vai tranquillo e fai quello che ti detta il cuore. Buttati e prima prepara la tua formazione. È difficile. Vai tranquillo, fai quello che il cuore ti detta e dacci dentro. Cosa produce la tua azienda? Impianti elettrici industriali. Principalmente siti web. Li ottimizziamo. Poi grafica, quindi immagine visuale. Ci occupiamo di marketing. 10 secondi per venderci il tuo prodotto o servizio. Siamo competenti. Siamo formati. E soprattutto abbiamo a cuore le esigenze del cliente. Mettiamo al centro te e la tua impresa. Se ritieni che la presenza su internet possa essere uno strumento efficace per incrementare il tuo business, rivolgiti a noi. 5 secondi per dirci qual è il tuo cliente ideale. Il mio cliente ideale è un cliente che si fida di noi, è un cliente corretto al quale vendiamo un prodotto serio. È un cliente che ha le idee chiare. Quanti dipendenti ha la tua impresa? 14 più 2 titolari. Siamo solo io e mio marito, ma ci rivolgiamo anche a partner esterni molto qualificati. Qual è il tuo dipendente ideale? Quello che sa fare meglio il suo mestiere. Quello che è sempre in azienda quando c'è bisogno. Quello che propone sempre nuove idee. Quello che sa fare quello che non sai fare tu. Quello che sa fare bene il suo mestiere. Quello che sa fare bene il suo mestiere c'è quando ne ho bisogno. Una. Tra 5 anni la tua impresa sarà raddoppiata, non esisterà più, uguale a oggi. Tanto più grande. Tanto più grande. Tanto più grande. Tanto più grande.